Ciao e benvenuti a questo video. In questo video vorrei parlare un po' del modulo di piegatura della lamiera e in questo caso vorrei presentare il primo comando USAND. Come si può già vedere dall'icona. Si tratta di una lamiera rettangolare o di una lamiera a angolo retto. Quando avvio il comando qui ottengo la selezione della lamiera, quindi per l'installazione. Posso inserire questa lamiera in due modi, una volta con i valori e una volta tramite punti. Qui voglio semplicemente mostrare con i punti. Questo significa che posso specificare punti e trascinarli con il mouse, bisogna solo prestare attenzione qui. Posso naturalmente muovere il mouse verso l'alto e questo appare un po' strano nella grafica. Perciò posso qui passare alla vista dall'alto e poi si può vedere come si comporta realmente. Vorrei ora tornare ai miei valori e posso definire un nuovo punto, punto di inserimento. Tramite questo pulsante naturalmente ho anche la possibilità di passare ai miei semilavorati e di selezionare i miei tipi di lamiera dal catalogo. Questo catalogo può naturalmente essere ampliato a piacere e adattato alle vostre esigenze. Ho qui naturalmente la possibilità di definire anche i valori e si vede subito che posso cambiare i valori in qualsiasi momento. Questi possono naturalmente essere modificati in qualsiasi momento successivamente. Ora ho qui, come si può vedere anche qui sotto, ulteriori opzioni con il tasto destro del mouse. Cioè posso qui dire o cliccare con il tasto destro del mouse e, ad esempio, posso dire che voglio andare all'originale, quindi all'origine della costruzione. E così la mia anteprima è stata impostata sull'origine della costruzione. Posso naturalmente modificare questo punto in qualsiasi momento e potrei anche qui utilizzare la tastiera. Se premo A potrei inserire un valore di coordinata assoluto. Cioè, dico qui che voglio inserire la mia prima lamiera a 0,0 e in altezza sull'asse Z. Quindi ho inserito la lamiera e se premo il tasto centrale del mouse, questa lamiera viene immediatamente generata. Vorrei naturalmente aggiungere un'altra lamiera che si trova a 100 sopra questo punto, perché voglio semplicemente mostrarlo. A questo punto posso premere il tasto R sulla tastiera relativamente a un Enter, perché voglio specificare un punto e qui indico il bordo superiore del punto dicendo, in questo caso, 100 nell'asse Z. Quindi ho creato qui la mia seconda lamiera. Si può già vedere dalla struttura dei pezzi che queste due lamiere sono state generate e se qui clicco sul cosiddetto Feature doppio clic, posso modificare tutti i valori di questa lamiera. Vorrei modificare questa lamiera in una lamiera di alluminio e desidero anche cambiare le dimensioni. Con ok, questa lamiera viene generata nuovamente. Questa lamiera è attualmente ancora rossa, perché ho attivato questa opzione nella funzione 2021. Se cliccò con il tasto sinistro del mouse da qualche parte qui, allora ho creato la mia seconda lamiera e posso modificarla in qualsiasi momento. E si può vedere anche qui nella struttura dei pezzi che questa lamiera è stata cambiata anche nel nome. Quando faccio doppio clic sulla lamiera, vedo anche tutti i valori che definiscono questa lamiera. Questi valori possono essere impostati in futuro o possono essere calcolati in qualsiasi momento o durante la ricerca di parti uguali o in qualsiasi momento. In linea di principio si tratta di una questione di gusti. C'è chi lo vuole in un modo e chi in un altro, ma posso definire in qualsiasi momento nella configurazione secondo quali criteri e quando deve essere calcolato?